Con questa mia breve conversazione vorrei condurvi un po' dietro le quinte di quella che è l'attività pittorica di Raffaello per incontrare i suoi committenti, cittadini fiorentini che sono loro che hanno chiesto a Raffaello opere per lo più destinate alle loro dimore e che quindi gli hanno dato l'opportunità di cimentarsi, di dar conto anche di quella evoluzione straordinaria del suo stile, del suo linguaggio, della sua poetica che avviene proprio in questa città e che segnerà il suo definitivo lancio, gli permetterà di arrivare a Roma e diventare uno dei principali artisti alla corte pontificia. Quindi dietro l'artista c'è anche il committente, chi sono costoro? Cittadini fiorentini abbiamo detto, certamente cittadini di una città che ai primi del Cinquecento viveva una stagione straordinaria. Raffaello arriva a Firenze presumibilmente nell'ottobre del 1504. Poche settimane prima, l'otto settembre, era stato svelato alla cittadinanza il David di Michelangelo, il gigante marmorio che davanti alla pietra rude di Palazzo della Signoria, sede del governo repubblicano, rappresentava per chiunque in maniera emblematica quei valori di forza, di virtù, di coraggio che contraddistinguevano l'anima stessa della Repubblica. Firenze era in fermento, un fermento di idee, di progetti, ma anche di opere, di sperimentazioni. E proprio in questi pochi anni cruciali del primo decennio si vengono a costituire le fondamenta di quella maniera moderna, maniera grande, che è il linguaggio artistico del secolo. Non solo a Firenze, ma ben oltre i suoi confini. Raffaello, giovane ventenne, si affaccia in questa realtà. In questa realtà straordinariamente stimolante. Raffaello, senz'altro, conosceva già questa città, ci era già venuto. Ma nel 1504 torna, certo, per imparare come ci dicono le fonti, ma forse anche con qualche ambizione in più. L'ambizione forse di ottenere una almeno di quelle commissioni pubbliche che stavano pullulando e che avevano richiamato a Firenze anche i grandi. A Firenze erano tornati proprio col volgere del secolo. Leonardo da Milano, Michelangelo appunto da Roma. E allo stesso Michelangelo, nello stesso 1504, nel dicembre, viene commissionato dal gonfaloniere a vita Soderini il lavoro per l'affresco della battaglia di Cascina destinato al Salone del Gran Consiglio, mettendolo all'opera dopo aver già incaricato Leonardo dell'altra grande scena che doveva essere affescata sulla medesima sala. E questi due grandi all'opera intorno ai disegni e poi ai cartoni rappresentavano una sorta di vessillo, di novità, di idee su cui poi si formeranno le nuove generazioni. Firenze era tutto questo e altro ancora. E quindi la speranza del Sanzio doveva essere certamente grande e in questo purtroppo venne in qualche modo deluso. Deluso perché le commissioni pubbliche non spettarono a lui per lo più. Ma la piazza era occupata senz'altro dai giganti Leonardo e Michelangelo e vari altri artisti fiorentini come Baccio d'Agno, Rodolfo il Grigandaio, Fra Bartolomeo, con cui peraltro Vasari, autore delle vite e per noi fondamentale fonte anche per la biografia di Raffaello, Vasari ci dice che intrattenne con gli artisti fiorentini ottimi rapporti, grazie anche all'indole così affabile, gentile e cortese di quest'artista. Ed è lo stesso Vasari che raccontando gli anni fiorentini di Raffaello cita cinque committenti, cinque famiglie che commissionarono opere per le loro dimore a Raffaello. Ricorda i Taddei, i Nasi, i Canigiani che erano come vedremo imparentati fra loro, i Doni che subito vi richiameranno alla memoria e celeberri nei ritratti, oggi agli Uffizi, e i Dei. I Dei che segnano, vedremo come, un po' la chiusura di questi cruciali quattro anni della vita di Raffaello a Firenze. Iniziamo con Taddeo Taddei. Vasari ci dice subito che il rapporto fra Raffaello e Taddei fu un rapporto di grande amicizia a tal punto che Taddeo lo voleva sempre in casa sua e alla sua tavola. Quindi una grande familiarità, un rapporto fatto anche di intimità familiare. E Raffaello, proprio per la sua anche gentilezza e anche in nome di questa amicizia, gli fece due quadri. Due quadri che avevano però due linguaggi diversi, due stili diversi. Uno ancora legato a quella maniera che Raffaello aveva maturato nella fase precedente, legata quindi a un linguaggio umbro prossimo a Perugino, il suo maestro. L'altro invece che dava conto di quella straordinaria evoluzione che in poco tempo il linguaggio di Raffaello ebbe a Firenze, grazie anche alla sua straordinaria capacità di assimilazione instancabile e altrettanto straordinaria la capacità di elaborare ciò che assimilava con libertà intellettuale e sommo studio. Veniamo alla prima opera. Qual era la prima opera commissionata da Taddeo Taddei? In realtà non lo sappiamo con certezza, ma è stata fatta un'ipotesi su questo dipinto. Cioè si pensa, è stato ipotizzato che questo tondo oggi nei musei di Berlino, la Madonna Terra Nuova, possa essere il dipinto commissionato da Taddeo Taddei, che ancora manifesta chiaramente un linguaggio peruginesco, ma riportato innanzitutto in una formula compositiva tipicamente fiorentina, il tondo. Il tondo da camera, che era un'opera destinata mai all'altare delle chiese, ma agli ambienti domestici. Di solito raffigurante sempre la Madonna col bambino, nelle sue varie declinazioni, è di solito commissionata in eventi rieti di una famiglia, per lo più nascite e matrimoni, ovviamente. Questo tondo cosa rappresenta? Rappresenta la Madonna col bambino, ovviamente al centro, alle spalle un parapetto e un paesaggio, e a fianco della Vergine troviamo due bambini. A sinistra riconosciamo bene San Giovannino, che stabilisce questo rapporto di gioco con Gesù, offrendogli il cartiglio. Il cartiglio su cui è scritto ecce Agnus Dei e che Gesù ha nelle sue mani, quasi srotolandolo. È un simbolo, tutto ciò naturalmente. Giovanni è come se offrisse con questo cartiglio, preannunciando la passione, la morte di Cristo, il suo sacrificio. E Gesù lo accetta, arrotolando su se stesso per spoggersi verso San Giovannino. Dall'altra parte, questo bambino invece si pone più in maniera discreta e sembra che Maria, con questa mano sollevata, gli faccia scenno di mantenersi quieto, di pazientare. E lui pazienta, aspetta e guarda il viso di Maria. Chi è? È possibile che sia il piccolo San Taddeo, che poi diventerà uno degli apostoli e nella geografia cristiana, Taddeo viene considerato uno dei cugini di Cristo. Ecco, se costui è Taddeo davvero, è facile pensare che Taddeo Taddei abbia chiesto un tondo in cui fosse incluso, in qualche modo, il suo santo monimo. L'altro dipinto, quello di un linguaggio più maturo, è identificabile con la Madonna del Prato. Madonna del Prato, che fu comprato, seguito dopo, da Ferdinando d'Austria, dai Taddei proprio. Opera datata qui sul bordo dello scolo della Vergine, 1506. Un'opera straordinaria, incantevole, che fa parte anche di una serie di madonne da camera, come si venivano chiamate, di Raffaello, che studiano con varianti compositive questo schema piramidale della Vergine con i bambini intorno a questa figura. Anzi, questa composizione viene a creare come due piramidi, una più piccola formata dai due bambini che ancora una volta hanno, il loro rapporto è incentrato su un oggetto che prefigura la passione di Cristo, in questo caso la croce, e questa piccola piramide luminosa dei due fanciulli nudi si innesta nella grande piramide di questa Vergine monumentale soave al tempo stesso che spicca con il suo volto contro il chiarore di questo cielo. È un paesaggio ideale, ovviamente, all'interno di questo paesaggio si pongono dei simboli desunti da elementi naturalistici, basti ricordare le fragole in primo piano e il rosso delle corolle dei papaveri, anch'essi a richiamare il sangue di Cristo. Il dipinto che era Taddeo Taddei, il dipinto che era in una casa di un fiorentino, già ci parla da solo di un personaggio senz'altro di grande cultura, influente. In effetti Taddeo era innanzitutto appartenente a una famiglia che da generazioni era iscritta all'arte della rana. Erano quelli che oggi si potrebbero chiamare degli imprenditori dell'attività manifatturiera che avevano avuto sempre buoni, anzi intensi rapporti con i medici, più volte soci in affari. Già ai tempi del bisnonno di Taddeo, il nonno di Taddeo Antonio fu addirittura chiamato a diventare operaio della fabbrica di San Lorenzo nei tempi in cui questa chiesa, che come sappiamo è la chiesa medicia per eccellenza, veniva costruita. La bottega, il centro degli affari dei Taddei, si collocava nei pressi del convento di San Martino del Vescovo insieme a numerose altre botteghe dell'arte della lana. E San Martino del Vescovo è parte di questo complesso, l'oratorio dei buonomini ancora qui presente. San Martino del Vescovo è praticamente all'interno. Sento un rumore in vicinanza anche alla Badia Fiorentina. Il Taddeo viene iscritto all'arte della lana prestissimo dal padre già nel 1472 e nel 1499 sposa Costanza Capponi appartenente peraltro a una famiglia di fede repubblicana. Siamo già negli anni della Repubblica, quella Repubblica iniziata, inaugurata nel 94 con la cacciata dei medici a seguito della rivolta ispirata da Samonarola e i Taddei però avevano avuto anche la capacità di un'azione diplomatica fra le parti che gli permise di continuare la propria attività e anzi lo stesso Taddeo nel 1506 quando si data lo stesso dipinto di Raffaello ebbe anche la carica di Priore. Quindi personaggio stimato a tutti i livelli. Taddeo era molto amico di un grandissimo letterato del tempo, Pietro Bembo, qui rappresentato nello splendido ritratto che Tiziano gli fece, li avrebbe fatto dopo la sua nomina cardinalizia. E il Bembo dal 1506 per vari anni fino al 12 soggiorna ad Urbino, presso la corte di Urbino, da dove il resto proveniva Raffaello, ma dove anche trovarono rifugio i medici in esilio. Qui soggiornarono in questi anni Giuliano Duca di Nemur, poi Duca di Nemur e qui anche il cardinale Giovanni che poi sarebbe diventato Papa Leone X e quindi i rapporti stretti che Taddeo aveva con i medici poterono da lui essere ancora coltivati attraverso l'intermediazione di Pietro Bembo. E di questo doveva essere ben consapevole lo stesso Raffaello, il quale nel 1508, il 21 aprile, scrive allo zio Simone Ciarla con il quale continua a avere un rapporto epistolare in questi anni fiorentini e gli scrive avvertendolo che il Taddei, suo amico, sta per arrivare a Urbino. Non specifica il motivo, ma facile pensare che Taddeo Taddei voleva partecipare all'esequie del Duca Guido Baldo e quindi informa appunto lo zio in maniera che gli possa venire data degna accoglienza. Questo rapporto intimo che si è appunto fatto anche di ritrovi privati tra le mura domestiche ci porta a chiederci dov'era questa abitazione, questa abitazione che costruiva all'interno anche queste opere pittoriche così straordinarie. Bene, mi avvalgo, non solo nel caso di Taddeo ma anche negli altri committenti, dettagli di una bellissima pianta, la prima pianta di Firenze che possa considerarsi scientificamente tale che venne stampata nel 1584 a fine Cinquecento e venne disegnata da Stefano Bonsignori. Bene, le case dei Taddei si trovavano da generazioni lungo Via Ginori e la casa di Taddeo in particolare era all'angolo tra Via Ginori e l'attuale Via Taddea, si chiama così non a caso, su quell'angolo che veniva chiamato allora il canto del bisogno oppure canto del bigno. Questo corrisponde all'edificio che tuttora è in Via Ginori 15. Al numero 17 invece, impropriamente, troviamo questa lapide che qui fu spostata in un momento successivo su una casa che era di Taddei ma non è esattamente quella di cui stiamo parlando. E proprio questa lapide ricorda che Raffaello fu ospite in casa di Taddeo Taddei nel 1505. In casa di Taddeo Taddei, di un personaggio di tale levatura, non potevano esserci altro che capolavori e fra questi, insieme alle opere di Raffaello, spiccava senz'altro questo marmo, un tondo di marmo che fu scolpito da Michelangelo. Oggi è custodito presso la Royal Academy di Londra, proprio negli stessi anni in cui Raffaello dipinge la Madonna del Prato. Ancora un tondo ma stavolta scolpito. Il tema del tondo torna apparentemente consueto, Madonna col bambino, ma rielaborato e proposto da Michelangelo in chiave assolutamente personale, anzi emotivamente coinvolgente. Il centro della composizione è un uccellino appena sbolzato al centro, che viene offerto da San Giovannino, lo si riconosce per la pelliccia annodata su un fianco da cui pende la ciotola, con cui poi battezzerà Cristo, e questo uccellino che San Giovannino propone, allungando le braccia, fa sì che Gesù scappa, si spaventa, innesta una reazione emotiva, ben diversa da quel senso rasserenante che percepiamo dai bambini rappresentati da Raffaello nei dipinti coevi. Il Gesù di Michelangelo fugge come annodandosi su se stesso, ruotando a spirale e cercando protezione nella braccia della madre. Una madre invece che con saggezza, equilibrio, che osserva, sia pur con malinconia, quest'uccellino. Uccellino che è facile immaginare dovesse essere un cardellino, che è ricorrente nelle rappresentazioni analoghe in quanto prefigurazione della morte di Cristo. Taddeo Taddei del resto mantenne con Michelangelo un rapporto intenso nel tempo, un legame protratto. Tanto che negli anni venti il cardinale Giulio dei Medici incaricherà Taddeo di curare, diciamo, da vicino i lavori che Michelangelo stava svolgendo per la sagrestia nuova. Ma torniamo ai primi anni del Quattrocento. Taddeo Taddei era imparentato con i Nasi. Aveva un fratello, Taddeo Gherardo, che aveva sposato intorno al 1500 Ippolita Nasi, la quale era sorella di Lorenzo. E ci dice Basari che anche con Lorenzo Nasi, Raffaello era in grandissima amicizia e che fece un quadro per questo signore raffigurante sempre la Madonna che ha fra le gambe il Gesù, un putto, al quale un San Giovannino tutto lieto porge un uccello con molta festa e piacere dell'una e dell'altro. attorno al tema dell'uccello e non può essere altro che la nostra Madonna del Cardellino. Madonna prossima proprio come composizione, concezione, stile a quella Madonna del Prato che abbiamo visto e che si data in coincidenza del matrimonio di Lorenzo Nasi con Sandra Canigiani che avvenne fra la fine del 1505 e gli inizi del 6. Quindi la datazione è proprio pressoché coeva la Madonna del Prato. Ancora uno schema piramidale, i due bambini prossimi, di qua, di là, di una gamba della Vergine e chiusi proprio dai colori della veste di Maria. Il centro della rappresentazione è l'uccello, è il cardellino, ma com'è diversa la reazione dei fanciulli rispetto a quella fuga così istintiva del bambino scolpito da Michelangelo. Qui tutto è grazia, bellezza ideale, armonia di forme, ma anche di poetica, di spirito. E questa armonia di forme e di incantevole bellezza viene propagata poi in questo paesaggio. Sembra semplice una composizione del genere, eppure l'arte sublime di Raffaello è quella di far sembrare semplice e ciò che deriva da un sommo studio, da un'attenta costruzione di ogni dettaglio. E Vasari, che non era solo scrittore, non era solo artista, ma era anche uno straordinario storico dell'arte, comprende benissimo cosa aveva davanti. E si sofferma, per esempio, sui bambini colpito da quella che lui definisce una certa semplicità tutta amorevole. Quindi questa grazia sposata a questa semplicità, ma che solo una sapiente capacità artistica poteva costruire e presentare. E questi bambini che, dice Vasari, paion carne viva. Più volte Vasari sottolinea la capacità di quest'artista di non far percepire le pennellate, ma dare la sensazione di un epidermide palpitante. La poetica degli affetti rappresentata nelle Madonne fiorentine risente senz'altro di Leonardo. Anzi, gli studi innumerevoli di Leonardo intorno alla psicologia del bambino. Giovanni di Slangio offre come un dono questo uccellino. Gesù, pacatamente, ma anche forse con malinconia, solleva la sua mano paffuta e lo ascarezza. E l'uccellino sembra ritrarsi, come spaventato, gonfiando il petto. Eccolo questo centro di attenzione che dà il nome al quadro. E la Vergine che sembra unire i due bambini, accarezzando, accompagnando come con una carezza il dorso di San Giovannino. Quella Vergine in cui Vasari vede un'aria veramente piena di grazia e di divinità. Quella bellezza ideale che è espressione la più alta proprio di una bellezza divina, di un'armonia del creato. E solo questa concezione così ideale poteva formularsi solo a Firenze, in tutta la sua sostanza proprio anche di ascendenza platonica e di connessioni culturali che avevano delle radici profonde. E questa bellezza si propaga al paesaggio, quel paesaggio ideale che non ha puntuali riscontri, ma dove dalla visione generale si scende in dettagli straordinari che ancora una volta potevano essere stimolati da un artista come Leonardo. Guardiamo questo correre delle acque che a un certo punto passano da questo esile ponticello e trovano dei sassi in cui fanno gorghi e si creano piccole onde che scintillano illuminati da questo chiarore che sembra una luce tersa di una mattina di primavera. Una nebbia azzurrina tutta avvolge, ancora una volta una nebbia luminosa, pulviscorare, che sembra essere riecheggiare ancora le suggestioni leonardesche. Lorenzo Nasi chi era? Era un uomo d'affari anche lui, un imprenditore, iscritto a ben due arti, all'arte di Calimala, quella dei mercatanti, cioè coloro che importavano la materia grezza dei panni da tutta Europa e dalla Scozia, alla Spagna, alla Francia e che poi rielaboravano creandone un prodotto finito di estrema raffinatezza per poi riesportarlo. Era una delle arti più ricche e l'altra arte era l'arte della seta a cui era scritto Lorenzo Nasi e già l'iscrizione a entrambe le arti ci dice il tenore degli affari di questo personaggio che è spesso anche impegnato nella sede succursale della sua attività a Lione in Francia. Vivevano in Asi nel quartiere di Santo Spirito ma avevano cappelle in varie chiese. Una di queste cappelle era nella chiesa di Santa Maria di Cestello in Borgopinti, quella che oggi chiamiamo dal 600 la chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi ma che al tempo dei Nasi apparteneva ai Cistercensi di Settimo. L'altare Nasi era nell'ultima cappella sulla sinistra prima della tribuna dell'altare e sull'altare Nasi c'era la pala raffigurante l'apparizione della Vergina San Bernardo dipinta da Pierugino per il padre di Lorenzo Nasi Bartolomeo. Altra cappella era nella Basilica di Santo Spirito la chiesa del quartiere dove i Nasi abitavano. La cappella Nasi si trovava nel transetto destro accanto alla cappella Nerli famiglia con cui loro erano imparentati sul loro altare c'era un'altra opera che oggi è a Monaco La Pietà di Raffaellino del Garbo opera ancora con i sentori savonarogliani peraltro in queste asprezze questa diciamo dolente pietà pietà. Il altro altare Nasi infine era nella chiesa di San Nicolò d'Oltrarno proprio prossima alle case Nasi i Nasi avevano le case infatti nei popoli di San Nicolò d'Oltrarno e di Santa Lucia de Magno i popoli oggi si chiamerebbero le parrocchie praticamente quindi praticamente queste case si distribuivano lungo la direttrice che da Piazza dei Mozzi poi va lungo via San Nicolò e via dei Bardi la casa di Lorenzo Nasi in particolare si trovava su questo lato della strada il lato opposto rispetto a Santa Lucia dei Magnoli in questa casa il Lorenzo custodisce gelosamente fra le varie opere e il mobilio gli arredi e quant'altro custodisce gelosamente la Madonna del Cardellino che lascia ovviamente al figlio e suo erede Van Battista nel 1547 purtroppo smotta la collina di San Giorgio che va a distruggere le case su questo lato e anche la casa dei Nasi il figlio di Lorenzo Nasi Van Battista va a recuperare i frammenti della Madonna del Cardellino fra i calcinacci rovista fra quel che è caduto dai solai dai soffitti e recupera 17 frammenti che mette da parte e le consegna a un artista che possa lavorare in una forma di restauro l'inchioda fra di sé cerca di integrarli alle meglio e così quest'opera è arrivata a noi Vasari entra in casa Nasi racconciata come si diceva allora restaurata in parte ricostruita due anni dopo nel 1550 e vede questa opera restaurata e ci racconta la sua storia consideriamo Vasari immaginiamo Vasari anche come intervistatore che entra in queste case forte della sua rinomanza naturalmente gli aprono volentieri e hanno molto da raccontare lui si appunta e questi ricordi sono entrati nelle pagine delle vite eccola la Madonna del Cardellino come l'abbiamo vista per anni e anni così ha attraversato i secoli e di recente un sapiente lungo restauro svolto dall'opificio delle pietre dure ci ha permesso oggi di goderla nella sua straordinaria freschezza e leggibilità in Asi erano imparentati con i canigiani che abitavano sull'altro lato della strada a Domenico Canigiani Raffaello dipinge un quadro raffigurante ancora la Madonna con Gesù che fa festa a un San Giovannino portogli cioè diciamo offertogli da Santa Elisabetta che mentre lo sostiene con prontezza vivissima guarda un San Giuseppo quindi un quadro con numerosi personaggi è facile riconoscere il dipinto in questa tavola anch'essa a Monaco un'opera bellissima di grande maturità resa complessa dai vari personaggi Maria il bambino naturalmente Giuseppe in alto che costituisce l'apice di questa piramide che si appoggia al bastone volge la testa a guardare la Santa Elisabetta e che tiene nel suo grembo San Giovannino ma ancora una volta il cuore della rappresentazione sono i due bambini intorno a un centro di interesse torna il cartiglio Vasari si sofferma a descrivere in particolare gli affetti cioè i sentimenti dei personaggi San Giuseppe dice Vasari si manifesta meraviglia appoggiandosi al suo bastone guarda questa vecchia meravigliandosi che possa miracolosamente avere dato alla luce un bambino anzi dice Vasari tutti sembra che si stupiscono nel vedere questi due cugini così piccoli che si fanno festa l'un l'altro sia pur uno San Giovanni mantenendosi riverente nei confronti di Gesù ed è ancora Vasari che stesso che si stupisce ad osservare quelle pennellate che non sono non paiono di colore ma paiono di carne Domenico Canigiani uomo da fare anche lui si sta parlando come capite bene di un'alta borghesia imprenditoriale era iscritto all'arte di Calaimala e abitava nel palazzo ancora esistente sull'altro rato di via De Bardi rispetto a dove abitava Lorenzo Nasi quindi la sua abitazione non venne travolta dal crollo della colina San Giorgio anche la famiglia Canigiani era legata ai medici e proprio nel 1507 o poco dopo Domenico aveva sposato Lucrezia Frescobaldi occasione con la quale per la quale potrebbe aver commissionato un l'opera di Raffaello che abbiamo visto riassumendo queste tre famiglie come erano imparentate Taddeo sposo nel 1409 con Costanza Capponi è il committente forse della Madonna di Terranova sicuramente della Madonna del Prato suo fratello Gerardo nel 1500 aveva sposato Ippolita Nasi il fratello di Ippolita Nasi Lorenzo sposa intorno all'inizio del 1506 Sandra Canigiani ma anche l'altro fratello Leonardo sposa una Canigiani Ginevra il fratello delle due Canigiani Domenico nel 7 sposa Lucrezia Frescobaldi e chiede a Raffaello la sacra famiglia che prende il loro nome passiamo a un altro ambito familiare Agnolo Doni Agnolo Doni che è un personaggio che ricorre almeno otto volte nelle vite di Vasari nel senso che fu un grande committente ma non solo grande collezionista e quindi Vasari si sofferma anche a descriverne l'indole di questo personaggio perché ne aveva sentite delle belle su di lui oltre a avere apprezzato in prima persona le opere che ancora si custodivano in quella che era stata la sua casa che ormai appartenevano al figlio agli eredi dice infatti Vasari che Agnolo era una persona assennata nello spendere anzi spendeva volentieri perché era un appassionato scollezionista quindi amava circondarsi di pittura scultura ma con più risparmio che poteva e per quanto riguarda Raffaello gli chiese ovviamente i ritratti di sé e della sua donna anzi usa il singolare ritratto di sé e della sua donna sì perché i due ritratti che oggi siamo abituati ad ammirare e a vedere separati sembra ormai quasi certo praticamente che fossero in origine uniti in un dittico con una cornice che permetteva la visuale sia del fronte che del retro i ritratti di Agnolo e Maddalena sono fra i capolavori più alti del periodo fiorentino di Raffaello ma in generale della sua opera è ovvio che l'impostazione dei due personaggi di tre quarti seduti con il gomito appoggiato sul bracciolo della sedia sullo sfondo di un paesaggio risente di quella composizione straordinaria che Leonardo poco tempo prima aveva dipinto la Gioconda naturalmente ma rielaborato quello schema in maniera completamente diversa se lì tutto è mistero qui è tutto certezza questi personaggi nella descrizione dei costumi gioielli sono eppur nella loro impassibilità sono diciamo esaltati proprio nel loro status sociale nella loro virtù nella loro affermazione di vita personale pubblica Agnolo fra l'altro apparteneva a una famiglia di tintori e di mercanti di lana e di panni e queste stoffe sono sicuramente un manifesto non solo della levatura degli affari ma proprio anche del successo di questi stessi affari il paesaggio è del tutto subalterno ai personaggi anzi con le sue forme sembra riecheggiare le forme dei personaggi stessi e il cielo sembra in funzione di mettere porre in risalto le fisionomie di questi volti e questi capelli che da soli sembrano sospesi per l'aria che circola il retro del dipinto è dipinto a monocromo da un artista anonimo che per consuetudine chiamiamo maestro di serumido e vediamo rappresentato un tema tratto dalle metamorfosi di Ovidio del mito che ci permette di legare chiaramente i due ritratti al matrimonio infatti vediamo rappresentato da una parte il concilio degli dèi gli dèi che mandano il deluvio sull'umanità colpevole di superbia e salvando solo una coppia di anziani Deucalione e Pirra a costoro spetta il compito di creare un'umanità rigenerata buttando le pietre alle loro spalle l'uno farà nascere gli uomini l'altra le donne Agnole e Maddalena si erano sposati il 31 gennaio del 1504 nel 1506 si conclude l'arredo della Camera ancora non sono nati i figli ecco che questi due ritratti si pongono in questo ambito in questi anni così cruciali ma dove era questa casa ce lo dice Vasari stesso Vasari dice che era nel corso dei tintori appresso al canto degli Alberti il canto degli Alberti è in corrispondenza della cosiddetta torre delle colonnine e quindi il corso dei tintori come sappiamo bene è questo dove si pone dove si trovava questa casa presumibilmente questa casa era vicina all'imbocco dell'attuale via di Benci dagli studi sembra verosimile che si trovasse nel tratto fra l'arco dei tintori ancora esistente a questa altezza via mozza lo vediamo qui e palazzo corsi orna quindi in questo tratto iniziale e quindi siamo abbastanza resti a credere che la casa di Agnolo Doni la casa dove era custodita i due ritratti fosse il palazzo Doni che invece si trova all'angolo tra Corso dei Tintori e Via Magliabecchi palazzo peraltro molto trasformato e modificato con il tracciato proprio di Via Magliabecchi con la costruzione della Biblioteca Nazionale e in questa dimora nella dimora di Agnolo Doni entrano dei capolavori straordinari basti pensare che insieme ai due ritratti di Raffaello entrano in questa casa entra in questa casa anche il tondo che dipinge Michelangelo il tondo che prende il nome dai committenti il tondo Doni e quest'opera straordinaria segna l'apice della tradizione dei tondi fiorentini che si appresta dopo a chiudersi a concludersi un'opera che è tanto più importante che è l'unica opera sul tavolo sicuramente riferibile a Michelangelo Michelangelo che è l'autore anche del disegno della cornice cornice che si riferisce eseguita diciamo da Francesco del Tasso appartenente alla celebre famiglia Legnaioli è responsabile del fornimento ligno cioè del complesso di arredi della camera nuziale di Agnolo Doni che si conclude proprio nel 1506 quindi diciamo le opere sono abbastanza concomitanti questa cornice che presenta un tralcio diciamo di racemi foglie di acanto teste di fauni urlanti mascheroni teste di animali e emerge da questo fregio teste scolpite a tutto tondo profeti ai lati figure queste figure con i capelli lunghi si è visto in queste ora delle civille ora degli angeli e la testa di Cristo in alto fra questi racemi nella parte in alto a sinistra compaiono tre crescenti lunari che si volgono la gobba emblema nascosto apparentemente occulto occultato diciamo ma che richiama chiaramente una volta individuato l'emblema degli strozzi repubblicano e che addirittura quando nel trenta capitolerà l'ultima repubblica sarà addirittura preso ostaggio quindi veniva da una famiglia di grandissime influenze e prestigio ai lati delle tre lune compaiono teste leonine che potrebbero richiamare il leone rampante presente nello stemma doni il dipinto il dipinto ci raffigura ce lo raccontassimo sembra il consueto soggetto di Madonna col bambino San Giuseppe una sacra famiglia in realtà nulla c'è di simile né prima né dopo quest'opera straordinaria questa sacra famiglia che si che in realtà sembra in moto Maria è in primo piano seduta a terra secondo l'iconografia della Madonna dell'umiltà butta da un lato le ginocchia ruota il busto dall'altro innestando un moto ascensionale entro questa sorta di struttura quasi architettonica chiusa da questo eroico San Giuseppe e si pone Gesù in questo precario equilibrio in questo passaggio fra Maria e Giuseppe del bambino il primo piano è delimitato da questa ciglio in pietra a destra San Giovannino sul fondo nudi atletici che tirano panni in cui si è cercato di spiegare con varie interpretazioni su cui non mi soffermo mi preme però evidenziare come un'opera del genere nonostante fosse in questo ambiente privato fosse stata in qualche modo vista e ammirata dallo stesso Raffaello anche perché sembra qualche suggestione trasparire proprio nella sacra famiglia canigiane che abbiamo appena visto ma le collezioni i doni si arricchiscono nel tempo e sappiamo lo stesso Vasari ci ricorda che nel 1516 Agnodoni poté dotare la cappella della sua casa con la bellissima Sacra Famiglia con San Giovannino di Fra Bartolomeo oggi nella Galleria Corsini a Roma opera è sa stessa che risente della del Raffaello Fiorentino di quella stessa Sacra Famiglia canigiane che abbiamo rivisto inserito in questo paesaggio commovente pieno di sentimento che riecheggia questa affettività dei personaggi inoltre entra in Casa Doni quest'opera quest'opera straordinaria L'amore Attis di Donatello questa scultura oggi al Bargello viene acquistata dai Doni viene ricordata anzi in Casa Doni nell'inventario del 1568 alla morte del figlio di Agnolo Giovanni Battista potrebbe essere stata acquistata da Giovanni Battista come da Agnolo non furono loro i committenti ma consideriamo che l'amore Attis nel 500 600 700 veniva considerato un'opera antica cioè un'opera eccelsa dell'antichità e quindi parte delle collezioni Doni erano anche antichità entra probabilmente con questo tipo di accezione questa scultura che è un capolavoro di Donatello e del resto la parte antiquaria era di grande rilevanza in questa casa insieme all'antiquariato antigemme e gioielli si ricordano anelli negli inventari anelli con diamanti rubini balasci oggetti da collezione come per esempio un vaso di diaspro con manici e un piede dorato che viene venduto alla morte di Agnolo a un prezzo allora esorbitante 80 ducati del resto questa sensibilità per i gioielli e anche la possibilità di acquisirli naturalmente si percepisce dallo stesso ritratto di Maddalena dai dettagli i numerosi anelli che porta alle dita la cintura dorata persino le asole da cui passa il filo che chiude il corpetto ma soprattutto il pendente sul suo petto dove vediamo un enorme perla scaramazza un rubino uno zaffiro uno sberaldo incastonati in questo pendente d'oro dove un unicorno lo aggancia sempre d'oro lo aggancia al filo nero e passiamo ai dei i dei e con questa famiglia concludo i dei sono ricordati genericamente da Vasari come cittadini fiorentini che allogano cioè commissionano a Raffaello una tavola destinata alla cappella dell'oraltare in santo spirito i dei pur essendo cittadini fiorentini non avevano soggiornato a lungo a Firenze infatti Rinieri dei e suo figlio Piero non vengono ricordate nelle cariche pubbliche pur essendo diciamo di una levatura sociale notevole perché semplicemente erano vissuti per la maggior parte della loro vita in Francia a Lione dove c'era la sede dell'attività dei dei anch'essi debiti al commercio di seta e lana oltre che all'arte orafa quindi ancora personaggi di primo ordine ai primi del cinquecento Rinieri dei torna a Firenze un po' una vita come un cerchio che si chiude torna a Firenze forse ormai avanti con gli anni e pensa un po' di lasciare un po' dei segni del suo operato e quindi a cosa pensa? quello che pensano un po' tutta l'alta borghesia fiorentina a un palazzo e una degna cappella nella chiesa più importante del suo popolo il palazzo è quello che chiamiamo palazzo guadagno in santo spirito palazzo che viene commissionato da Rignieri dei al cronaca e che viene concluso intorno al 1504 o 1505 e inoltre Rignieri dei acquisisce la cappella uno degli altari nelle cappelle nel transetto sinistro dopo la sacristia e non fa in tempo però a dotarla nei testamenti che si sosseguono a stretto giro fra 1505 e 1506 prima di morire Rignieri conferma che come suo erede universale è l'unico maschio che ha avuto che è il figlio naturale Piero a lui spetta spettano dei doveri innanzitutto erediterà il palazzo di famiglia ma gli viene imposto dal padre di non vendere in perpetuo il palazzo in piazza santo spirito inoltre gli viene chiesto di dotare quella cappella ancora priva dei degni ornamenti e delle immagini devote ecco che fu Piero a fornire la cappella della vetrata una delle poche vetrate che ancora esistono in santo spirito e raffigurante l'apparizione della regina san Bernardo a Bernardo era dedicata la cappella perché Bernardo era stato il padre di Rignieri e il nonno di Piero il disegno della vetrata sembra riferibile a Raffalino del Garbo è molto probabile che a realizzare la vetrata siano stati i frati ingesuati che erano degli specialisti dell'arte vetraria e fra l'altro furono gli autori della grande vetrata che c'è in facciata della stessa santo spirito sul disegno di Perugino ma veniamo alla pala la pala viene chiesta da Piero Dei a Raffaello finalmente finalmente un'occasione per quest'artista di mostrarsi pubblicamente non è una commissione pubblica in senso pieno alla parola ma è un'opera destinata a un luogo pubblico e quindi una commissione prestigiosissima Raffaello scrive nel 159 al solito zio charla dicendo che è alle prese con una grande tavola e che anzi ancora non ha chiesto il prezzo perché è indeciso se prima farla stimare ma gli dice anche che il padrone della tavola gli ha promesso che poi lo incaricherà di vari dipinti da mandare in Francia e a Firenze è evidente che sta parlando proprio della pala per Piero Dei e che abitava fra Firenze e Lione questa pala segna una svolta nella tradizione della pala d'altare a Firenze ma non solo una sacra conversazione ambientata in un interno una architettura semicircolare una nicchia che riecheggia chiaramente le cappelle semicircolari di Santo Spirito i personaggi si mettono a semicerchio la Vergine su un trono molto sopraelevato ecco che i Santi finiscono per essere come degli intermediari fra il devoto e la Vergine fra lo spazio terreno e lo spazio trascendente gli elementi trascendentali sono amplificati da questi angeli che volano e che tengono sollevato questo baldacchino con una nota anche di spettacolarità il dipinto ha poi una striscia scura che non appartiene all'originale anzi distinguiamo bene e questa opera che oggi noi vediamo alla Galleria Palatina fu portata a Palazzo Pitti molti anni dopo la sua esecuzione alla fine del Seicento per volere del Gran Piccipe Ferdinando collezionista sprecificato instancabile che acquisisce di forza diverse pale d'altare fiorentine del Cinquecento fra cui questa e gli fa fare una giunta a un artista di corte per inserirla nelle incorniciature con foglie di acanto da lui tanto amate come la vediamo ancora oggi in Galleria quindi per vedere Raffaello dobbiamo considerare questa parte Raffaello aveva la sua occasione ma non la porta a termine lo vediamo bene da queste parti l'epidermi l'architettura è a buon punto l'opera ma mancano proprio le ultime velature Raffaello si trasferisce a Roma è giunto il momento lo chiama a Roma il Papa lo chiama a Roma Bramante suo amico e conterraneo che gli aveva preparato il perterreno lo chiamano a commissioni imponenti a cominciare dagli appartamenti pontifici che affrescherà lo chiama la svolta la svolta definitiva della sua carriera e non ha scrupoli di lasciare le opere a Firenze come diceva Zari e la tavola dei dei non finita e doveva finire quest'opera certo non sull'altare dei non sappiamo dove la pone Raffaello probabilmente a casa di qualche amico qualcuno forse qualche artista amico fra i numerosi di cui Raffaello si era riunito certo in un luogo dove poteva essere vista infatti quest'opera influenzerà gli artisti contemporanei e che verranno a cominciare da Fra Bartolomeo con cui peraltro Raffaello aveva avuto un ottimo rapporto scambievole e vediamo come in queste pale troviamo proprio questi elementi che già portano a quella che è la pala dal tale cinquecentesca gli angeli i santi a semicerchio questa intermediazione fra il santo e il fedele e via dicendo e i dei i dei dovettero aspettare aspettare nel 1522 quando il rosso fiorentino dipinse per loro la pala che fu posta sull'altare ironia della sorte vuole che anche questa pala venne fatta trasferire da santo spirito nell'appartamento del gran principe Ferdinando anche questa entrò nelle collezioni del gran principe e quindi nelle collezioni medice anche questa dotata delle sue giunte anche questa dotata dalla scornice di collezione e oggi apprezziamo le due pale l'una in una stanza e l'una nell'altra nella stanza adiacente grazie 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 infinite per questo davvero affascinante viaggio nelle case delle importanti famiglie fiorentine è stato davvero avvincente per tutti formativo e credo che appunto il pubblico abbia molto apprezzato nonostante appunto diciamo il tempo siamo andati ben oltre la mezz'ora ringrazio quindi ancora Elena Capretti ringrazio vedo appunto complimenti nella chat le iscrizioni sono sempre per la settimana successiva per iscrivervi appunto ai vari appuntamenti potete sentire diciamo direttamente scrivere direttamente al call center io ringrazio ancora quindi tutti i partecipanti una lezione straordinaria quindi vi ringraziamo appunto dei commenti entusiasti grazie ancora Elena davvero per aver condiviso tutto il tuo sapere tutta la tua passione che sono le due cose che tengono insieme una vita da storici e da storici dell'arte grazie Elena tanti auguri di buone feste per chi non ci seguisse tanti auguri alla nostra relatrice e buona serata a tutti grazie a tutti grazie dottoressa grazie bravissima grazie 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 molto interessante grazie bravissima grazie 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 grazie